Chi lo avrebbe mai detto? C'era mancato persino aspettare i ritardatari, la collega che succede sempre tutto a lei e l'uscita con la coppia di amici in cui sentirsi il terzo incomodo è un attimo. Ma soprattutto c'era mancato stare insieme, mangiare insieme e sentirci a casa, fuori casa. Ritorniamo al ristorante. Ritorniamo a sorridere. We smile con the fork